Ogni tanto la vita riserva delle sorprese meravigliose. Io possedevo questo libro qui, l'ho preso una mattina in una delle pochissime librerie italiane che l'hanno messo fuori e poi lo hanno ritirato e me l'ero letto, l'ho conservato come credo che valga anche un po' di soldi. E poi invece un'altra mattina vado in libreria e mi trovo questo qua, una nuova edizione però con lo stesso contenuto, dice lui, dice Roberto Speranza. Noto che ha cambiato editore, forse la Feltrinelli non hanno preso bene il fatto che abbia fatto ritirare all'epoca il libro la mattina stessa dopo che era stato consegnato ai negozi. E la cosa divertente è che dice questo volume ripropone integralmente il testo dell'2020 parola per parola per smascherare le molte polemiche che ci sono state sui segreti da nascondere che avrebbero portato a rinviare la pubblicazione. Nel corso dei mesi ne ho lette davvero tante. Mi ha fatto persino sorridere la creatività di chi citava, tra virgolette, brani che non avevo mai scritto per alimentare un profluvio di fake news organizzate ad arte. La leggendo le pagine integrali del 2020 ognuno potrà vedere ciò che era vero e ciò che era falso nelle versioni propagate dai medi e dai social. Beh, caro Roberto Speranza, sarebbe bastato che tu, quando è uscito questo, e io citavo da qui, per carità non lo voglio mettere rovesciato, se no chissà cosa mi dicono, io citavo da qua, bastava rispondere quando abbiamo pubblicato i pezzi citando da qui, fare una bella intervista su questo libro, spiegare le cose che c'erano scritte dentro, spiegare le bacchettate che aveva gli altri e spiegare perché nel ottobre del 2020, prima edizione, scrivevi perché guariremo e poi si è andato avanti tutto il resto del tempo a dire che bisognava stare reclusi e che era colpa nostra se invece non si guariva. Così era una cosa molto semplice, si poteva fare, il libro stava qua, qualcuno ce l'aveva davvero, non c'erano le fake news, c'erano le fake news, sì, istituzionali, quelle di un ministro che non ha mai fatto un'intervista, si è sempre negato alla stampa, parlava solo con i suoi amici e poi però invitava a chiudere gli altri in casa.